Ciao a tutti ragazzi, siamo in Orfotube, qui Saxi, con il mio telefonino messo sgibbo. Sono qui in un mini vlog dopo un po' di tempo per annunciarvi un piccolo problema con cui io mi stavo veramente, con cui mi sto tutto rascannando per cercare di risolvere, ma ormai ho capito che è irrisolvibile. Un po' di parole, cosa è successo? Una settimana e passa fa, alcuni nostri video sono stati cancellati misteriosamente, però il bello è che non diceva che non erano stati cancellati per copyright, ma pensi dall'utente. E il bello è che nessuno di noi è stato, cioè io stavo dormendo quel giorno che l'ho scoperto, e Asso stava in giro insieme a Smoke, e Alex stava insieme a Dasura, e stavano senza internet. E quindi non potevano fare nient'altro, intanto stanno facendo casino io. E' sicuro che oggi massacrerò tutti quanti in casa, soprattutto mia sorella. Allora, stavo dicendo. In poche parole, quindi, ci sono stati cancellati questi video qua. Fortunatamente sono uscito a recuperare il video delle scale immaginari di Saxi, quello che fece la mia amica Daisy che saluta. E cos'altro, vi volevo giusto avvisare che fino a ora ho provato a risolvere questa cosa pure a cercare di recuperare i video, a capire chi cacchio è stato, niente, non sono riuscito a fare niente. Quindi non so, forse è stato un attacco di qualche acre, qualche stronzo, qualche cosa così, oppure qualcuno che ha messo mano sul computer di qualcuno, sul telefono di qualcuno, o altre di noi, perché, dopo tutto, vabbè, in casa mia, le uniche persone che ci sono in casa sono le mie famiglie, e in più ho entrato, vecchie volte qua a casa smoco, però io ogni volta ho sempre visto che si vedeva film insieme a noi, e mal che trocare il computer da te lì. Io, purtroppo, non so la vita di Alex e Asura, non sono mica il grande fratello, quindi non so niente su di loro, e accusai, ve lo dico, accusai ingiustamente Asura. E di questo qui, comunque, questo qui è anche un video di me, è un video anche per metà di scuse, perché, dopo tutto, non sapendo la tua versione, io mi ero buttato così subito all'attacco, perché, cioè, mi aveva proprio colpito in fondo, proprio, pum, un colpo netto, in quanto, se Inma fa cacca o pipì, sono morti. Chi è Inma? La nostra gatta. Eh, ve ne fateremo in un altro vlog, che l'ho messo già. Che bordello, che bordello. Eh, comunque, vi volevo giusti video questo qui, vi cominceranno i video dei gameplay e di tutte quelle altre cose, anche del... spero che riusciremo a... ciao, cosa che spruzza profumo. Eh, spero che riusciremo il più presto possibile a far incominciare la serie dei reaction sugli anime. Eh, cosa ti posso dire? Dall'altro fronte è tutto, eh... ah, sì, è giusto, 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 scusate, ma il mamma mi aveva distratto. Eh, sta dicendo? Eh, purtroppo mi ero messo contro, contro la sua, però mi ha spiegato che comunque, eh, lui non ha fatto niente, dopo tutto non aveva neanche il motivo per, eh, eliminare video, per danneggiare il canale, perché l'ho avuto anche l'unico a parte, dopo tutto, ma non aveva senso. Eh, e lui mi aveva detto, è giusto che mentre Alex si stava facendo i compiti insieme agli amici suoi, anzi, la decisione ha detto che lui era l'unico che stava facendo i compiti e gli amici suoi invece stavano pensando a giocarellare, eh, e stava il telefono di Asura, che si aveva compiato un telefono nuovo, senza password. E l'hanno trovato poi, è assoluto, poi l'ha trovato in un'altra stanza, nella cucina e quindi non si sa che cosa avranno trafficato. Quindi i sospetti ricadono su di loro e nei casi più disparati che non siano stati loro o qualcuno che si è infiltrato con un hacker oppure non sa veramente chi cazzo possa essere. Tipo Dio è sceso intero da un palazzo e cose varie. Va bene, dagli affotti oggi è tutto, saxì, yao.